che faceva parte dell'obiettivo di mandato del sindaco. Se prendiamo la relazione al conto del bilancio 2013, vediamo che uno degli obiettivi di questa amministrazione, di questa maggioranza, era la razionalizzazione, la trasparenza e l'efficienza delle società partecipate. Allora, tutti sanno che io continuamente ho chiesto riunioni e convocazioni della mia commissione per esaminare tutta una serie di questioni, tra cui alcune situazioni infernuali, perché io credo importante capire che cosa sia stato fatto e quale sia l'obiettivo e questa famosa razionalizzazione che bisognava fare sulle partecipate. Ho preso oggi quello che secondo me è, un'altra volta, un passo indietro, non uno avanti, di questa amministrazione e vi spiego perché. Oggi è stata costituita la società che gestirà l'acqua, le reti e quindi gli investimenti che verranno fatti sul territorio per la rete, che noi dovremmo conferire come tutti gli altri comuni. Ma Como, città-capo luogo, era assente. Como non ha partecipato alla costituzione di questa società. Mentre Cantù, Erba, Mariano e tutta una serie di comuni, è stata oggi la costituzione, alle 6, vabbè ho sbagliato per un comune sindaco, ma fatto molto grave, noi non ci siamo. Ancora una volta, la città-capo luogo non dà l'esempio. E perché questo? Quando noi abbiamo un bisogno di rispettare quelle che sono le disposizioni della regione Lombardia, noi abbiamo bisogno di essere, secondo me, apripista, non fanalino di coda, dei comuni della provincia, ma ancora una volta, noi non ci siamo. Non ci siamo sul tavolo che ha stabilito anche, ovviamente, il consiglio di amministrazione, nonché il collegio sindacale, ma soprattutto non ci siamo in un momento in cui io credo che la città-capo luogo dovrebbe essere di esempio e non essere trascinata dagli altri comuni. Questa società è stata costituita e c'è anche la provincia di Comun, naturalmente, che ha un po' organizzato le cose. Sono stati i sindaci, ovviamente, dei comuni di tutta la provincia a seguire l'andamento. Ma io ricordo che già a novembre e dicembre questo statuto era sul tavolo. Non capisco il sorrisino del sindaco, ma ormai ci stiamo abituando a questi atteggiamenti poco simpatici nei confronti degli altri consiglieri. Non dico più di minoranze per fermare il generalizzato. Comunque, questo è ancora indice di come le partecipate vengono gestite male, di come noi della Commissione non siamo mai parte di decisioni, ma neanche siamo degnati di essere informati di cose così importanti. Però, ripeto, quello che volevo sottolineare è che ancora una volta non si cambia passo, ma si fa un passo indietro. E questo, secondo me, è inaccettabile. Nei pochi secondi che mi rimangono vorrei far presente che io ho cercato in questi giorni di approfondire, per quello che mi è possibile, i numeri, il bilancio e quello che riesco, perché chiaramente ci sono state festività, dirigenti e dipendenti sono in vacanza o comunque fanno anche loro quello che possono. Chiedo che per la discussione siano presenti i dirigenti perché solo, io mi sono resa conto solo per esaminare uno o due argomenti, se i dirigenti, il personale non c'è, siamo in difficoltà. Questa può essere una strategia, ma in ogni caso io lo segnalo. Grazie. 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 Grazie.